Video di prova di Colossal Cave Adventure, versione 0.2, una ombriu per Sega Master System. Da quello che ho capito, leggendo sul forum di SMS Power, questo videogioco dovrebbe essere un adattamento, una riedizione, dell'originale Colossal Cave Adventure, che era un'avventura di testo. Questa versione non è quella definitiva, manca ancora qualche ostacolo, qualche enigma, e ho letto che presenterebbe qualche problema col testo, che ogni tanto si confonderebbe, soprattutto perché l'area su cui è scritto a volte non rimane nera. Io ve lo presento, se vi può interessare, in descrizione come al solito c'è il link per scaricarlo, e il video prosegue un pochino, poi sfuma a nero, anche perché io non sono un amante di questo genere di videogiochi. Vi ringrazio per la visione. Grazie 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 a tutti.